Amanti dello street food, dal 31 maggio al 2 giugno il TTS Food esce da Roma per approdare lungo le rive del lago di Bracciano, più precisamente ad Anguillara, sul lungolago di Reginaldo Belloni. Regione per regione assaporerete i nostri piatti più iconici, succulenti hamburger di carne o suino iberico, oppure polpo fritto o polpo alla griglia, frittura di pesce o mozzarella fritte, un bel mazzo di arrosticini, una focaccia calda o un bel piatto di carbonara o amatriciana. E se volete sperimentare dei gusti più originali dovrete spostarvi dall'Italia e parlare un po' spagnolo con i piatti tipici del Messico o della Spagna. O perché no, arrivare fino agli States con la carne affumicata BBQ. Il dolce non è mai troppo quando è così gustoso. Bombe e ciambelle ripiene, crepe con la nutella, maritozzi con la panna, tiramisù espressi e tanto altro. Nelle nostre birrerie vi aspetta un'esclusiva birra chiara e scura, non filtrata, la nostra Lanswood Brava House. Nella nostra Drink Zone potrete farvi preparare uno spritz o un mojito. Ed infine troverete l'acqua naturale in brick, targata TTS Food, che rispetta l'ambiente. Illumineremo per tre giorni le rive del lago di Bracciano sulle sponde di Anguillara, con le nostre luci, DJ set e spettacoli live. Venite a divertirvi e a rilassarvi con noi da venerdì a cena, sabato dalle 12 alle 24 e domenica per la Festa della Repubblica tutto il giorno. TTS è l'evento da non perdere.